Benvenuti a Via Margutta, una delle strade più peteresche di Roma. Questa è la casa che vi mostrerò oggi. Grazie Marco, siamo molto curiosi di vederla. Che tipo di proprietari? Si tratta di un appartimento di 150 metri quadrati, completamente ristrutturato, con tre camere da letto, due bagni, un ampio soggiorno e una cucina abitabile. Ha anche un bellissimo terrazzo con vista sulla strada. Suona meraviglioso. Possiamo iniziare dal soggiorno? Certamente. Seguitemi. Come potete vedere, il soggiorno è molto luminoso e spazioso, con finestre che si affacciano sul terrazzo. È davvero splendido. E la cucina? La cucina è moderna e completamente attrezzata. Con elettrodomestici di ultima generazione, c'è anche spazio sufficiente per un tavolo da pranzo. Mi piace molto. E riguardo le camere da letto, le camere da letto sono tutte molto confortevoli, con armadi a muro, per massimizzare lo spazio. La camera principale ha anche un bagno in suite. Questo appartamento sembra perfetto per noi. Che passi dobbiamo seguire ora? Se siete interessati, possiamo sederci e discutere. I dettagli dell'offerta sono qui per guidarvi in ogni passo del processo. Grazie.